Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi abbiamo un aggiornamento speciale sul caso di Pierina Paganelli, un mistero che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il caso di Pierina Paganelli è diventato sempre più complesso, con gli investigatori che lavorano giorno e notte per far luce su questo tragico evento accaduto a Rimini. La svolta potrebbe essere arrivata grazie alla testimonianza di un nuovo, importante testimone. Questa persona, che fino a poco tempo fa aveva preferito mantenere l'anonimato, ha deciso di condividere alcune osservazioni potenzialmente decisive. Durante un'intervista riservata, ha rivelato di vivere nello stesso edificio di Duilio Bianchi, il padre di Loris e suocero di Manuela, che ha fatto la macabra scoperta del corpo di Pierina. Questo testimone ha raccontato di aver notato quella notte dei passi misurati nei corridoi, seguiti, qualche ora più tardi, dal rumore distintivo di una lavatrice in funzione e dal lento sollevamento di una tapparella. Dettagli così specifici potrebbero essere la chiave di volta per le indagini, offrendo agli investigatori nuove piste da esplorare. Nonostante la naturale riservatezza che avvolge le indagini in corso, è diventato di dominio pubblico che la polizia sta esaminando con particolare attenzione l'utilizzo della lavatrice subito dopo il decesso di Pierina, facendo affidamento su analisi dei consumi elettrici per cercare di ricostruire gli eventi di quella fatidica notte. Siamo curiosi di conoscere anche il vostro punto di vista su questo intricato caso.